E' stato individuato uno degli autori dell'agguato che il 21 luglio scorso è costato la vita alla 39enne Fabio Giuseppe Gioffre e che ha quasi ucciso un bambino di 10 anni che era con lui. Si tratta di Domenico Fioromonte su richiesta della Didia Regina guidata da Giovanni Bombardieri. L'uomo è stato arrestato questa mattina dai carabinieri ma non si tratterebbe di un personaggio noto in ambienti di indrangheta. Stando alle prime indiscrezioni relative all'indagine, per molto tempo l'uomo avrebbe subito le angherie dei clan per poi reagire con la stessa mentalità e gli stessi metodi di chi lo ha tenuto sotto scacco. Insieme a lui questa mattina sono state arrestate altre due persone strane all'omicidio ma pienamente coinvolte nel contesto di indrangheta in cui è maturato. I due, Rocco Santaiti e Giuseppe Domenico Laganà Comandè, uno è l'anziano boss di Seminara mentre l'altro è uno dei giovani in rampanti leve, sono finiti in manette con l'accusa di estorsione, di porto e detenzione di armi, tutti reati aggravati dalle modalità mafiose. Come la vittima dell'attentato del 21 luglio entrambi sarebbero espressioni degli indoli, ceppo storico dell'omonimo clan tra il 2006 e il 2009 dilaniato da una faida tutta interna alla famiglia che per decenni ha controllato l'economia, la politica e l'amministrazione di Seminara. Famiglie litigiose, famiglie armate che sul territorio hanno sempre esercitato un controllo asfissiante.